La parola ai giurati nasce da un atto unico trasmesso in televisione nel 1954 che ottiene un successo straordinario. Tra gli spettatori c'è Henry Fonda che in seguito chiede a Reginald Rose, autore del soggetto e della sceneggiatura, di ricavarne un film vero e proprio. Fonda e Rose mettono i capitali e la realizzazione viene affidata a un giovane regista di teatro e di televisione noto per la sua bravura con gli attori. Per capire meglio il clima in cui Reginald Rose scrive questo dramma bisogna pensare agli Stati Uniti degli anni 50, una nazione uscita trionfante da due guerre mondiali, la nuova superpotenza militare ed economica con un PIL in crescita costante che però soffre di problemi sociali che si porta dietro fino a oggi, grandi divisioni interne, quella a base razziale prima di tutto ma anche enormi differenze di classe. Siamo nell'età d'oro del capitalismo americano, della piena occupazione e del boom economico. Non a caso il più famoso telefilm ambientato negli anni 50 sarà intitolato Happy Days, ma sono anche gli anni del maccartismo e delle divisioni ideologiche, di una nazione spaventata dal diverso che limita il diritto di espressione e la libertà di pensiero in nome di una presunta difesa dei valori della nazione, arrivando al bigottismo e alla censura. Proprio negli anni in cui 12 Angry Men viene scritto, una serie di eventi segna il futuro della società americana. Nasce in quegli anni il Civil Rights Movement, il Movimento per i diritti civili, l'anno dopo c'è il linciaggio di Emmett Till e sempre in quel 1955 si sviluppa una protesta non violenta il bus boycott che porterà al riconoscimento dell'uguaglianza fra i diritti dei neri e dei bianchi. Gli Stati Uniti non potevano pretendere di essere il faro della civiltà mondiale finché fossero esistiti simili pregiudizi e discriminazioni. Anche il cinema in quegli anni subisce una trasformazione sia nella forma che nei temi affrontati. La parola ai giurati è uno dei molti film del periodo che affrontano con spirito progressista vari temi sociali. Anche se possiamo definirlo uno dei primi esempi di dramma giudiziario, il film è molto più di questo. Non è un film sul mondo dei processi, soprattutto non è una critica al sistema giudiziario americano come qualche volta è stato detto. In effetti qui si parla di giustizia ma soprattutto si parla di pregiudizio, di pensiero unico e di conformismo. Il film è un processo contro i pregiudizi che di volta in volta i personaggi esprimono. Ogni idea preconcetta espressa dai giurati viene sistematicamente smontata. Ci troviamo a seguire dei giurati che devono decidere della vita o della morte di qualcuno, ma sono essi stessi dei prigionieri, prigionieri dei propri preconcetti, come capiamo man mano che la storia procede. Guardare il film diventa anche un guardare dentro di noi, riconoscendo le nostre convinzioni e il modo in cui spesso ci facciamo influenzare dai giudizi altrui. La brillantezza dei dialoghi non è fine a se stessa ma serve a mettere continuamente in risalto le contraddizioni in cui cadono i vari personaggi. L'accusa verso il ragazzo si rivela piena di falle e le presunte prove vengono fatte cadere attraverso queste contraddizioni. I 12 tipi umani che formano la giuria rivelano molto della società americana e non solo. La gamma dei personaggi copre una serie di profili psicologici, di valori e di classi sociali tale da offrire uno spaccato della società di quegli anni degno di un'analisi sociologica vera e propria. È una società patriarcale e quel man nel titolo originale lo sottolinea. Il film si pone una domanda, come combattere il conformismo e il pregiudizio? E ci dà anche la risposta, attraverso la conoscenza e la presa di coscienza. Il film con il suo ritmo straordinario ci mostra il conflitto, la lotta in corso fra i personaggi è come un film di guerra in cui il campo di battaglia è un tavolo. A parte l'introduzione e la scena finale fuori dal tribunale, tutta la storia si svolge in una stanza e il tempo della pellicola coincide con il tempo del racconto. È un classico esempio di unità, di tempo, di luogo e di azione. Il film inizia con un lungo piano sequenza di oltre sei minuti che introduce uno per uno i vari personaggi e termina con uno stacco su Henry Fonda. Capiamo subito che è qualcuno che non si mescola agli altri, che rifiuta il conformismo, è quello che vede più lontano di tutti, non per niente è l'unico che per tutta la ripresa guarda fuori dalla finestra. Non conosciamo i nomi dei giurati, anche gli altri personaggi vengono nominati solo attraverso la loro funzione o il loro ruolo nel processo, il giudice, l'avvocato, il vecchio vicino di casa, eccetera. La semplicità della scenografia porta a eliminare ogni distrazione a focalizzarsi sui dialoghi e sui personaggi. La caratterizzazione dei personaggi e la drammatizzazione delle situazioni sono qui portate ad un grado di efficacia che poche volte è stato eguagliato nella storia. Come scrive Sidney Lumet nella sua autobiografia, in un dramma i personaggi dovrebbero determinare gli eventi e in questo film i personaggi sono talmente ben delineati che il racconto sembra svilupparsi in maniera assolutamente spontanea e naturale. Naturalmente il film fa ampio uso di espedienti narrativi, a volte anche oltre i limiti del verosimile, perché qui tutto è finalizzato alla efficacia drammaturgica. Quello che interessa a Rose e Lumet è mostrare il comportamento umano in una situazione di conflitto. Abbiamo la massima economia di mezzi per arrivare al massimo risultato. Le premesse sono semplici, la posta in gioco è chiara fin da subito. La decisione finale che la giuria prenderà significherà la vita o la morte per qualcuno. L'unico elemento esterno alla stanza che agisce nel film è il tempo affoso, una cappa pesantissima che cresce di pari passo con la tensione che si crea tra i personaggi. Abbiamo l'unione di una magnifica sceneggiatura di Reginald Rose e dell'abilità registica di Lumet. Il risultato di questa sinergia è l'eccezionale capacità del film di coinvolgere noi spettatori. Diventiamo anche noi parte della giuria e veniamo attratti da chi ha il coraggio di sfidare il pregiudizio e l'indifferenza, mettendosi dalla parte del torto, come avrebbe detto Bertolt Brecht, perché tutti gli altri posti erano già occupati. Un'altra delle cose che distinguono la parola ai giurati è come viene messa in scena l'azione dei personaggi. Lumet aveva un background di regista teatrale e sapeva a perfezione come far muovere gli attori sulla scena. I personaggi si muovono costantemente in base alle dinamiche che si vengono a creare fra di loro e la macchina da presa segue e sottolinea tutti questi movimenti perché il linguaggio del corpo qui è tanto importante quanto i dialoghi. La forza drammatica del film viene anche dalla densità di ogni inquadratura, da come il quadro viene occupato dai personaggi e dai loro movimenti. Densità che non significa eccesso di dettagli nella scena ma significa che non ci sono tempi morti e c'è una continuità di azione che rende il film molto più scorrevole, molto più verosimile e soprattutto coinvolgente per gli spettatori. L'accuratezza della messa in scena, la disposizione degli attori nello spazio della stanza, la libertà con cui i personaggi si muovono e interagiscono, tutto compresi i movimenti di macchina è finalizzato a sottolineare queste dinamiche psicologiche che si instaurano fra i personaggi. A questo si aggiunge un montaggio magistrale con riprese più lunghe all'inizio come il piano sequenza di cui vi ho parlato e stacchi sempre più frenetici man mano che ci si avvicina al finale e al climax drammatico del monologo di Lee Jacob. Il montaggio è per la maggior parte interno all'inquadratura e gli stacchi sono usati nei momenti chiave. Questo rende molto più facile seguire le varie reazioni di chi è convolto nei dialoghi perché invece dello schema usuale di campo e contro campo in cui prima vediamo solo chi parla e poi vediamo la reazione di chi ascolta, per la maggior parte del tempo la macchina da presa è focalizzata su tutta l'azione mostrando chi parla e chi ascolta in modo da farci restare sempre con gli occhi incollati allo schermo e man mano che il racconto procede cambia anche il modo in cui i personaggi vengono inquadrati dalla macchina da presa. Nel suo bellissimo libro Making Movies Lumet spiega nel dettaglio come costruisce visivamente il senso di intrappolamento dei personaggi e il progressivo aumento di tensione della storia. Nella prima parte del film usa inquadrature dall'alto con obiettivi a campo largo quasi a farci sentire degli osservatori distaccati dall'azione. Man mano che la tensione fra i personaggi sale passa sempre più all'uso di focali lunghe stringendo l'inquadratura sui volti e sulle emozioni dei personaggi e schiacciando la prospettiva in modo che la stanza sembri più piccola. Questo fa nascere una sensazione di claustrofobia, di soffocamento quasi e porta gli spettatori a essere sempre più immersi nell'azione a contatto con i personaggi come se fossimo seduti davanti a loro. Nell'ultimissima scena di nuovo il campo inquadrato si apre, finalmente la tensione si scioglie e possiamo respirare a pieni polmoni. È un film sulla necessità di dubitare. Quello che Henry Fonda dice all'inizio quel non lo so è la premessa che dà il via al processo di scardinamento del pregiudizio degli altri giurati. Fonda è qui l'incarnazione del logos, della parola come procedimento verso la ragione. Il pregiudizio è una risposta facile a problemi complessi e la banalità del pregiudizio si contrappone alla complessità del processo cognitivo. Il compito della razionalità dunque è di insinuare il tarlo del dubbio. La forza, la determinazione con cui il personaggio di Fonda difende la sua posizione, che oggi potremmo definire garantista, si contrappone all'umiltà con cui cerca di esporre le sue argomentazioni. In questo si contrappone a quello che è il suo principale antagonista, il giurato numero 3 interpretato da Lee Jacob, il più irriducibile dei colpevolisti nella giuria. Aggressivo, sprezzante e quasi violento verso chi gli si oppone. La sua rabbia verso l'imputato non è altro che il risultato dei suoi sensi di colpa per avere fallito nel ruolo di padre. È un film che viene oggi studiato nei corsi di negoziazione per l'estrema intelligenza con cui mostra i conflitti umani. In altre parole, il film è una straordinaria sintesi dei meccanismi che sono alla base dei processi di negoziazione e di conoscenza. Tutti i dialoghi del film ruotano attorno a due coppie contrapposte, i cosiddetti giurati 8 e 9 e 3 e 4, la prima coppia che vota per l'innocenza e gli ultimi due a convincersi della necessità di assolvere il ragazzo. Assistiamo allo scontro fra un approccio di tipo competitivo, in positivo che rifiuta il dialogo e un approccio basato sulla collaborazione, sulla costruzione delle alleanze, sulla ricerca delle possibili opzioni che portino gli avversari a scegliere la strada della ragionevolezza e del confronto. È anche un film sulla manipolazione. Non posso parlare qui di tutte le sofisticate dinamiche relazionali che la sceneggiatura mette in campo. Se volete approfondire l'argomento vi rimando all'interessantissima serie di video che il canale Counter Arguments ha dedicato al film. Trovate i link in descrizione. Al film non interessa stabilire se l'imputato sia colpevole o no. Arriviamo alla fine del film senza avere la certezza che non fosse colpevole. Quello che il film stabilisce è la necessità che venga assolto in base al principio del ragionevole dubbio. La storia è tutta nel percorso che conduce ogni giurato alla presa di coscienza della necessità di assolvere il ragazzo. Ecco, una delle caratteristiche di questo, come di altri grandi film, è di non essere mai prevedibile nel suo svolgersi, ma di arrivare ad una conclusione che a quel punto sembra l'unica possibile. Come spiega lo stesso Lumet, in un buon dramma la conclusione deve essere percepita come inevitabile, ma ciò non deve evitare la sorpresa finale. Il finale deve sembrare inevitabile, ma deve anche essere imprevedibile. Il finale di questo film è positivo, ma per quel che mi riguarda mi lascia una profonda inquietudine. È chiaro che se non ci fosse stato un giurato straordinariamente ostinato e brillante nel contrastare gli altri undici, il ragazzo sarebbe stato condannato senza appello. In questo la parola ai giurati si rivela uno dei più grandi film contro la pena di morte e in generale ci ricorda la leggerezza con cui spesso si accusa e con cui si condanna. È una storia che prende di mira la superficialità del potere, potere che dovrebbe essere sinonimo di responsabilità e la responsabilità ha come primo dovere quello della logica. Il tema giudiziario serve per dirci che la ricerca della verità è un'opera lunga, delicata e complessa e le soluzioni rapide spesso ingannano. Due parole sulla fotografia, l'uso degli obiettivi e dei punti di ripresa rimane ancora oggi un esempio di perfezione e di aderenza al racconto. Allo stesso modo, l'uso misuratissimo delle luci con una prima parte più illuminata, l'oscurità che lentamente avvolge la stanza alla metà del film e infine il ritorno alla luce verso la fine, testimonia dell'abilità del direttore della fotografia Boris Kaufman. Kaufman aveva iniziato la sua carriera in Europa negli anni 30, per esempio lavorando con Jean Vigo e poi si era trasferito negli Stati Uniti dove aveva filmato molti capolavori da per esempio fronte del porto a Babydoll di Casan fino a collaborare con Lumet in una serie di film memorabili. Passando al cast abbiamo qui qualcosa di fenomenale, credo che tutti siano d'accordo nel definire questo cast una delle commissioni di attori più riuscite nella storia del cinema. Se guardiamo la filmografia di Lumet non possiamo fare a meno di notare la straordinaria qualità degli attori che sceglieva e soprattutto la sua capacità di far rendere gli interpreti al massimo. Film come L'assassinio sull'Oriente Express, Quel pomeriggio di un giorno da cani, quinto potere, come naturalmente questo, rappresentano delle alchimie perfette. La formula magica usata da Lumet si può sintetizzare in una sola parola, naturalezza. Il cast di ogni film provava e riprovava le scene per settimane finché non raggiungeva un grado di disinvoltura tale da permettere agli attori di improvvisare sul set mantenendosi perfettamente in linea con lo spirito della sceneggiatura. Anzi, spesso la sceneggiatura veniva modificata in base a quanto emergeva dalle improvvisazioni degli attori. Vorrei solo citare due grandi interpretazioni fra tutte, quella di Lee Jacob, il giurato irriducibile, il vero antagonista di Fonda, con un personaggio che rende indimenticabile il film ed è una delle più grandi prove d'attore. E poi Henry Fonda, come sempre perfetto nel ruolo del protagonista integerrimo, il volto pulito del cinema americano per più di 30 anni che solo Sergio Leone riuscirà a convincere ad interpretare un ruolo cinico e spietato in C'era una volta il West. La parola ai giurati fu accolto con entusiasmo dalla critica. A giugno del 57 conquistò l'Orso d'Oro al Festival di Berlino e alcuni mesi dopo ebbe tre nomination agli Oscar per miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura. Henry Fonda, Lee Jacob e Sidney Lumet ottennero una nomination ai Golden Globe. Il film fu però un insuccesso al botteghino, forse perché erano gli anni in cui triunfavano i colossal a colori su schermo panoramico e con migliaia di comparse. Henry Fonda dopo questo film non vorrà mai più produrre niente, ma al di là dell'insuccesso iniziale nel corso degli anni Twelve Angry Men si è progressivamente guadagnato un posto tra i film americani più amati di sempre. Per avere un'idea della popolarità a cui questo film è arrivato basti pensare che è al quinto posto nella lista dei migliori film della storia votati dagli spettatori sull'Internet Movie Database, il che per un film di oltre 60 anni fa in bianco e nero che si svolge tutto dentro una stanza è decisamente un risultato non da poco. La forza che la storia conserva a distanza di tanti anni si vede anche dalla quantità di remake per il cinema, per la tv e per il teatro. È uno dei più brillanti esempi della possibilità di costruire una grande storia con mezzi minimi, una stanza, un tavolo e alcuni personaggi. In conclusione una pellicola straordinaria che dà il via alla carriera cinematografica di Sidney Lumet che realizzerà altri bellissimi film e più di una volta darà prova della sua capacità di concentrare l'azione in spazi minimi come in quel pomeriggio di un giorno da cani. Grazie, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un like se il video vi è piaciuto e vi do appuntamento a novembre per un altro grande classico del cinema. Un saluto!